Attesa finita e tempo di giro della Toscana internazionale femminile. 160 atlete al via, 27 squadre di cui 18 straniere, fra queste tre che arrivano da altri continenti. 40 nazioni rappresentate, una carovana che muove oltre 400 persone. La ventottesima edizione della manifestazione è stata presentata all'auditorium della Banca Alta Toscana di Quarrata. Tante persone per il battesimo di una delle manifestazioni ciclistiche al femminile, tra le più longeve del panorama mondiale. Nutrita e qualificata la platea che ha fatto registrare anche la presenza di rappresentanti di tutti i comuni interessati dalla Quattro Giorni. Sul palco anche il presidente della regione, Eugenio Gianni, e il presidente regionale del CONI, Simone Cardullo. In sala con il patron del Toscana, Brunello Fanini, anche il presidente della Feder Ciclismo Toscana, Saverio Metti, e gli ex professionisti Edita Pucinscaite e Silvio Martinello. Il Toscana, che si svolge dal 29 agosto al 1 settembre, prevede quattro frazioni, un cronoprologo e tre tappe in linea. Quattro giorni di sport e di festa, grazie anche alle numerose iniziative collaterali, che quest'anno avranno come piatto forte la presenza di Francesco Moser e di una madrina d'eccezione come l'ex ciclista Mara Mosole.